Do il benvenuto a studentesse, studenti e docenti che si sono connessi, auspicando che crescono con le prossime occasioni di webinar, perché siamo riusciti a partire ufficialmente, insomma un po' in ricordo rispetto a quanto previsto, per questa iniziativa, che è un'iniziativa dedicata in modo particolare alle ragazze, un'iniziativa che è supportata da Eni, il nostro partner filantropo, e che mira a riequilibrare uno squilibrio della partecipazione femminile nel settore digitale, che non è per niente positivo, per due motivi, uno perché per perdiamo, attualmente ci sono circa il 20% di donne nel settore digitale, rispetto a un bilanciamento 50-50, quindi perdiamo dell'intelligenza perché l'intelligenza è equamente distribuita, e cosa ancora più importante, rischiamo di dare a questo mondo digitale, che diciamo diventa sempre più pervasivo, rischiamo di dare una connotazione troppo maschile, insomma, di fatto siamo diversi, uomini e donne sono diverse, la pensano in modo diverso, e questa diversità diciamo dovrebbe arricchire, se però poi ciò che c'è nel digitale lo fa soltanto, lo fanno tendenzialmente, soltanto gli uomini, questo conduce a degli squilibri, quindi è importante che soprattutto dal momento della scuola, come dire, le ragazze vengano interessate a capire, come dire, come si possono vedere in un mondo digitale da un punto di vista femminile, quindi diciamo la nostra iniziativa ha proprio questo nome, no? Prospettive al femminile, la mia idea di digitale, come le ragazze vedono un futuro digitale, che non è quello che viene rappresentato insomma dai film, diciamo il ragazzetto che in uno scantinato buio digita furiosamente sui tasti, perché ormai non è più così, diciamo, non è soltanto la scrittura del software, la definizione di cosa fa questo software, la definizione delle specifiche, il come deve interagire, il come questo software media le interazioni tra le persone, il come questo software agisce prendendo decisioni, che è una delle, diciamo, dei temi di cui, che toccherà, diciamo, il nostro ospite di oggi, la nostra ospite di oggi, la professoressa Diola Schiaffonati, che è professoressa di logica e filosofia della scienza al Politecnico di Milano, quindi è un non informatico, una non informatica, proprio diciamo a dimostrazione del fatto che è importante che invece si occupino di temi del digitale persone che non hanno studiato soltanto informatica, lei in particolare, diciamo, è laureata in filosofia e ha un dottorato di ricerca in filosofia della scienza, è stata all'estero, in California e a Stanford per periodi di ricerca scientifica, ha diversi incarichi a livello nazionale, diciamo ricordo così, perché è particolarmente rilevante, il laboratorio nazionale del Cini su informatica e società, che è proprio un laboratorio focalizzato sui temi che sono all'intersezione tra l'informatica e la società, che ormai sono tutto, insomma, qualunque cosa si fa in informatica è di interesse per la società. È stata anche parte della commissione, di un gruppo di esperti della Commissione europea in rappresentanza di Informatics Europe sull'utilizzo dei dati e dell'intelligenza artificiale nell'insegnamento e nella formazione. Io a questo punto troncherei qui la mia presentazione, darei la parola a Viola e io, diciamo, chiudo la mia telecamera così chi ascolta si concentra solo su di te. Vi ricordo che potete fare domande, anzi, noi auspichiamo che voi facciate domande perché la prospettiva che Viola e gli altri speaker vi porteranno sono dello stimolo e che però richiede anche la vostra partecipazione, richiede anche la vostra interazione. Quindi le domande le potete scrivere nella chat o se volete potete chiedere di essere abilitati a parlare, vi abilitiamo a parlare e diciamo fate un intervento in modo più umano, diciamo, con la voce. Ok, Viola, il palcoscenico è tuo. Bene, grazie molto, grazie molto per l'invito. Mi fa proprio piacere essere qui, diciamo, anche se in questa modalità un po' distante, ma a parlare di temi che mi stanno a cuore e a parlare soprattutto, diciamo, alle persone più giovani. È veramente importante che facciate domande, interagiate, fatelo nel modo che preferite e io stessa ho preparato un po' questo intervento con l'idea di farvi alcune domande. Sono delle domande non certo, come dire, per mettere in difficoltà nessuno, né per valutare, ma proprio per stimolare un po' discussione. Allora, il titolo del mio intervento di oggi è un titolo, diciamo, un po' naif. Il buon design perché le buone intenzioni non sono abbastanza. Perché il design, il processo di progettazione, diciamo, di intesa in senso lato, ma poi più nello specifico di prodotti, soluzioni, sistemi digitali, è un processo assolutamente importante di cui oggi si discute molto perché si dice, si sottolinea quanto questa progettazione dovrebbe avere le persone al centro, gli esseri umani al centro. Non sto dicendo che questo non sia importante, ma voglio fare un passo ulteriore e il passo ulteriore è perché le buone intenzioni non sono abbastanza, perché mettere le persone, pensare che le persone debbano stare al centro e progettare queste tecnologie in questo modo non è abbastanza. Questo, almeno, diciamo, io spero sia un modo di vedere, appunto, la mia idea digitale, di declinare la mia idea di digitale da una prospettiva un po' inedita. Non è una prospettiva tecnica, parte dalle prospettive tecniche, ma poi adotta, come dire, una visione, diciamo, diversa da quella puramente tecnica, una visione filosofica e io credo, spero di dimostrarvi, anche se in poco tempo, che appunto per progettare buone tecnologie la filosofia gioca, in questo momento può giocare un ruolo molto importante, quindi dare un'ispirazione, diciamo, rispetto all'importanza di includere anche prospettive non tecniche. Allora, come spesso fanno i filosofi, che spesso, diciamo, nella visione un po' così stereotipata vengono dipinti come molto poco attaccati ai problemi reali, partirò da dei cosiddetti esperimenti mentali. Perché? Perché gli esperimenti mentali sono esperimenti dell'immaginazione, hanno un ruolo, hanno avuto un ruolo fondamentale, hanno un ruolo fondamentale nella scienza, giusto per fare due nomi, Galileo da un lato e Einstein dall'altro, ma hanno un ruolo anche fondamentale nella filosofia. Quindi vi chiedo di usare la vostra immaginazione nel momento in cui vi presento questi esperimenti mentali. non so come mai non si vede bene forse il titolo, ma vabbè, fa niente. Poi dopo vi mando semmai una versione corretta di queste slide. Allora, primo esperimento mentale. Pensiamo a progettare una soluzione tecnologica che ha poi una grossa componente digitale, adesso cercherò di chiarire in che modo, per risolvere un problema annoso, un problema che in Italia abbiamo tanto, che è il fatto che le persone guidano sotto, diciamo, l'effetto di alcol. Ovviamente, diciamo, questo è un problema sia perché credo sia la causa principale di morte per le persone più giovani, ma è anche un problema perché abbiamo visto, nonostante l'attitudine sia cambiata, l'educazione sia cambiata, continuano a esserci questi incidenti e tutte le campagne che sono state fatte, forse hanno mostrato che ancora le persone non sono abbastanza sensibili. Allora, provate a immaginare di avere, di poter progettare dei veicoli che hanno sostanzialmente una chiave dentro la quale dobbiamo soffiare e che se rileva una presenza di alcol superiore ai limiti di legge, ci impedisce di guidare il nostro autoveicolo. Attenzione, qua dovete iniziare a usare, sistemi di questo tipo esistono già, però voi dovete cominciare a usare l'immaginazione e pensare a una soluzione particolarmente sofisticata per cui, prima di tutto, questo sistema è molto veloce, cioè non perdete tempo, supponete che in due secondi diciamo avvenga tutto il processo, quindi in due secondi potete capire se potete guidare, se l'auto potrà essere guidato o meno. Secondo, ovviamente questo dispositivo raccoglie un sacco di dati e raccoglie anche un sacco di dati sensibili. Ecco, immaginate che questi dati non siano condivisibili con nessuno e voi siate gli unici proprietari di questi dati. Anche su questo avete bisogno di usare l'immaginazione perché, come spesso sappiamo, diciamo questa protezione al cento per cento dei dati non è possibile. E poi usiamo l'immaginazione anche pensando che sostanzialmente questo sistema non faccia mai errori, quindi non ci restituisca mai né falsi positivi né falsi negativi. E ultimo punto, immaginate che un'auto con questo sistema non costi più di un'auto normale. Adesso vi chiedo, magari potete usare la chat, chi di voi comprerebbe quest'auto e chi non la comprerebbe? Pensateci, da un lato diciamo questa auto è pensata per risolvere un problema gravissimo che abbiamo dall'altro, diciamo come ve l'ho messa, ha molti vantaggi ma può presentare anche degli svantaggi. Chi la comprerebbe? Potete anche usare la voce? Io non vedo nessuno che nella chat si lancia o sono io che non vedo. ok qualcuno sta scrivendo potete anche dire semplicemente sì, no la comprereste, non la comprereste? ok quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi, perché la comprereste? Ma davvero, non voglio spingervi troppo, credo che qualcuno sta scrivendo allora qualcuno dice io personalmente la comprerei per la mia sicurezza e spero che sia così anche per gli altri giovani come me, potrebbero esserci però persone che non la comprerebbero magari per evitare di non poter guidare mettendo a rischio la propria vita, oppure qualcuno dice non la comprerei perché non bevo, beh, forse non dovrebbe essere una scelta, dovrebbero comprarla tutti, oppure qualcun altro potrebbe anche dire beh, forse invece non la comprerei perché ci sono le situazioni di emergenza. vedo che qualcuno sta ancora scrivendo, poi magari nel frattempo leggo le risposte, mi presento però il secondo esperimento mentale, che è sostanzialmente sempre su questa stessa linea, ma in cui diciamo ci sono delle differenze. allora, il secondo problema è sempre un problema che potremmo affrontare in maniera tecnologica, in questo caso la soluzione digitale è un po' più sofisticata. allora, il problema è un problema globale, è il problema di risparmiare l'acqua, sappiamo che l'acqua è un bene preziosissimo, fondamentale, sappiamo anche che però siamo spesso pigri nel risparmiare l'acqua perché abbiamo tanta acqua, ci piace fare le docce lunghe, quindi non siamo consapevoli di quanto la mancanza d'acqua abbia un impatto in alcune zone, in alcuni paesi e in alcuni contesti, quindi immaginiamo una soluzione, come dire, tecnologica, scusate io non vedo, ecco, ok, una soluzione tecnologica a questo problema, cioè immaginiamo di poter comprare, acquistare un soffione della doccia, che se applicato alla nostra doccia ci consente di risparmiare acqua senza però dover diminuire la lunghezza delle nostre docce, in questo caso dobbiamo proprio usare l'immaginazione, perché? Allora, prima di tutto, non abbiamo, è una soluzione che non è che dopo due minuti ci stoppa la doccia e ci dice non potete più fare la doccia, due, è una soluzione che ipotizziamo utilizza degli algoritmi di machine learning perché si adatta alle nostre abitudini, alle nostre preferenze, cioè impara che io amo fare la doccia avendo tanta acqua quando mi devo sciacquare i capelli dallo shampoo, ma invece magari ho bisogno di meno acqua quando mi sto insaponando. Quindi qua veramente usate l'immaginazione e supponete che dopo pochi giorni questo soffione della doccia applicato alla nostra doccia ci consenta di risparmiare almeno il 50% dell'acqua che consumiamo, senza limiti alla lunghezza della doccia e senza compromettere il comfort della doccia. Faccio un esempio, senza che ci sia un flusso dell'acqua troppo sottile per cui la doccia non è confortevole. Anche qui, usando la vostra immaginazione, immaginate che la doccia ovviamente raccoglie molti dati ma non li condivide con nessuno, che la doccia impara molto velocemente, non fa mai errori e soprattutto si adatta e si personalizza. Un conto sono io che faccio la doccia, un conto è mio marito, un conto sono le mie figlie. E supponete che quindi funzioni perfettamente. E ultimo elemento che non costi molto, diciamo 30 euro. Allora, qui vi chiedo di dire semplicemente sì. Chi dice sì e chi dice no, potete anche semplicemente diciamo fare delle semplici reazioni. Sì, sì, nel caso della doccia, c'è qualcuno che non la comprerebbe? Sì, vedo dei sì. Allora, nel frattempo, mentre se qualche altro commento, vi vedo timide, ma invece non dovete esserlo. Nel frattempo, se qualcuno, c'è qualcuno che dice di no, ok? Magari se poi avete voglia anche di aprire, diciamo, i vostri microfoni, io sono molto contenta. Se non avete voglia di aprirli, va bene lo stesso. Comincio a introdurre alcuni concetti. E poi, tenendo in mente, Fabiola dice no, se non so chi ha accesso ai miei dati, giusto, supponete che nessuno abbia accesso a questi dati, che voi siete gli unici ad avere accesso a questi dati. Ok? Allora, immaginate, lo sappiamo che nella realtà questo non è possibile, però immaginate che siate gli unici ad avere accesso a questi dati. E allora, nel frattempo, io inizio a introdurre alcuni concetti un po' più di alto livello. Allora, quelli, i due esempi che vi ho appena presentato, di solito vengono classificati come due casi di tecnologie moralizzanti. Cosa significa tecnologie moralizzanti? Significa non tanto che queste tecnologie prendono decisioni di tipo morale, ma che le persone, i progettisti, progettano tecnologie in maniera tale che, in qualche modo, le tecnologie diano forma alle azioni e alle decisioni morali. Ok? I due casi sono, che abbiamo appena visto, i due esperimenti mentali che abbiamo appena fatto, sono proprio in questa direzione. Vogliamo risparmiare l'acqua, progettiamo un soffione che, della doccia, che si è applicato, ci fa risparmiare almeno il 50% dell'acqua. Vogliamo evitare incidenti sotto, diciamo, per la guida sotto l'effetto di alcol, impediamo la guida, impediamo che chi è sotto l'effetto di alcol guidi questi veicoli. Poi Asia dice, si potrebbe fare un sistema solo in locale, crittato, per assicurare la sicurezza dei dati, in modo che solo tu puoi accedere ad essi. Molto importante, grazie, però in questo caso non concentriamoci su questi tagli tecnici. Immaginiamo che sia possibile. Il modo in cui poi questo è possibile non ci interessa. Perché queste tecnologie moralizzanti oggi sono importanti? Beh, perché pensate a quanto si discute di come dovremmo, diciamo, progettare le tecnologie per il bene. Ad esempio, un tema che credo sia molto a cuore tutti, i bias di genere che vengono, diciamo, incorporati sia a partire dai dati che vengono usati, per esempio, per fare l'addestramento di modelli di machine learning, sia anche nel modo in cui gli stessi algoritmi, diciamo, sono progettati che spesso hanno bias inconsapevoli. Quindi, in un certo senso, adottare quest'idea delle tecnologie moralizzanti potrebbe risolvere molti problemi. E vi faccio un esempio, perché parliamo di soluzioni digitali, ma vi faccio un esempio molto più semplice di idea che gli artefatti, che le cose siano anche portatori di moralità, non solo le persone, il caso dei dossi artificiali sulle strade. Perché i dossi artificiali sulle strade sono delle tecnologie moralizzanti? Perché sostanzialmente ci impediscono di guidare troppo veloci. È come se ci dicessero, attenzione, guarda che prima di raggiungermi devi rallentare. E quindi è come se incorporassero un po', come dire, questa idea del, in alcune strade bisogna guidare piano, nel modo in cui sono progettate. Spero che sia chiaro fino a questo punto. Se non è chiaro, mi raccomando, ditemelo, interrompetemi, scrivete. Però perché spesso le persone hanno delle reazioni, diciamo, un po' conflittuali nei confronti di queste tecnologie moralizzanti? Perché è vero che possono risolvere molti problemi, però, per tornare al caso della macchina che non possiamo, che non ci fa guidare quando abbiamo troppo alcol, potrebbero presentare anche tutta una serie di problemi. Ad esempio, quando faccio questi esperimenti mentali con i miei studenti, molti mi dicono, ma una macchina di questo tipo è una macchina che limita tantissimo la mia libertà. Non solo la libertà di quando voglio bere e comunque guidare, ma, per esempio, perché questa, diciamo, è una libertà che in certo senso si fa un po' fatica a difendere, ma anche la libertà, ad esempio, di un'emergenza. Cosa potrebbe succedere se, ad esempio, ho bevuto solo un pochettino, però effettivamente sono fuori dai limiti di legge e devo guidare la mia automobile perché è una questione di vita o di morte, devo salvare un amico, devo portare un mio genitore all'ospedale, eppure ho bevuto solo un pochettino. Cioè, molto spesso, quando si parla, diciamo, di soluzioni tecnologiche, anche sofisticate, che però danno, come dire, limitano il nostro raggio d'azione, le persone reagiscono dicendo che questo è un modo per limitare le nostre libertà. E una controrisposta potrebbe essere, beh, certo, però noi viviamo già in società che limitano la nostra libertà, perché, per esempio, le leggi sono un modo di limitare le nostre libertà e di consentire di vivere civilmente tutti insieme. Però c'è una bella differenza tra una legge e una tecnologia nel modo in cui la libertà viene limitata, perché voi potreste dirmi, certo, le leggi sono fatte per essere seguite, ma possiamo anche decidere di non seguirle. Ad esempio, so benissimo che non devo guidare, avendo bevuto troppo, ma se magari è una questione di dito di morte, decido che infrango la legge per salvare un amico o una persona cara. E questa è la prima sfera di critiche. Poi c'è una seconda sfera di critiche, che è proprio la sfera che, io direi oggi forse, è più sentita quando si parla di delegare decisioni umane, tipicamente prese dagli esseri umani, a delle entità artificiali, come è il caso, per esempio, di sistemi di intelligenza artificiale che fanno diagnosi mediche, che decidono chi può essere rilasciato su cauzione o meno, se ha già commesso reati o se non li ha commessi. E la seconda gruppo di critiche che di solito viene sollevato è attenzione, perché se deleghiamo troppe delle nostre decisioni, anche quelle di tipo morale, poi diventiamo pigri, non siamo più capaci di prenderle queste decisioni. Poi, in qualche modo, rischiamo di affidarci sempre a delle macchine senza interrogarci criticamente su cosa dobbiamo fare, come lo dobbiamo fare. Le decisioni morali sono difficili da prendere, rischiamo di diventare pigri o incapaci. Ma poi c'è un terzo punto che mi sta molto a cuore e per discutere questo terzo punto torno alle differenze fra la doccia intelligente e i dossi artificiali. Perché io credo che qua, dal punto di vista, come dire, delle soluzioni digitali, potete ben vedere che ci sono delle differenze significative. I dossi artificiali non hanno nulla, diciamo, di digitale, sono degli artefatti, mentre invece nella doccia intelligente vi ho fatto esplicita menzione, per esempio, di un algoritmo di machine learning, di processi di apprendimento a partire dai dati, dalle nostre abitudini, e via dicendo. E per fare, per andare un pochino in queste differenze, devo introdurre alcuni concetti. Allora, il primo concetto, il concetto di tecnologia sperimentale. Il caso della doccia, del soffione, diciamo, intelligente, della doccia smart, potrebbe rientrare sotto questa categoria e qua cito un filosofo che ha definito le tecnologie sperimentali, alcune sono digitali, altre no, come quelle tecnologie di cui non sappiamo bene come, diciamo, quali saranno i loro benefici e quali saranno i rischi, e questi benefici e questi rischi emergono solo quando queste tecnologie vengono inserite nel loro contesto d'uso. Io credo che qua possiamo vedere veramente tantissimi esempi. Pensate al caso, un esempio fra tutti, il caso di ChatGPT, che da un giorno all'altro, come dire, è stato introdotto liberamente in un contesto, nel contesto tutti hanno potuto usarlo, senza che però fosse minimamente chiaro quale fossero i rischi e i benefici. Pensate alla scuola, un contesto assai delicato in cui immediatamente, come dire, tutti hanno potuto avere accesso a questa tecnologia e questo ha cambiato decisamente tutta una serie di cose, magari alcune in maniera positiva, altre forse meno, e però non c'è stato modo di valutare passo per passo e nel caso tornare indietro per capire meglio. Non c'è stato modo di sperimentare con queste tecnologie, cosa che invece, nel caso di tecnologie sperimentali, è molto importante. E perché è molto importante? Perché ci sono spesso, come dire, conseguenze inaspettate quando abbiamo a che fare con tecnologie di questo tipo? Vi faccio un esempio molto semplice e poi torniamo alla nostra doccia intelligente. Una delle ragioni per cui sono state inventate qualche anno fa le lampadine a basso consumo era proprio quella di ridurre il consumo di energia. È molto importante. quindi una soluzione si consuma tanta energia, perché non le inventiamo delle lampadine che consumano meno energia? Così l'energia, il consumo di energia sarà diminuito. Ebbene, sapete che dopo l'invenzione di queste lampadine, forse non tutti, ma in realtà il consumo di energia è aumentato invece di diminuire. Perché? Perché le persone hanno cominciato ad aggiungere luci laddove prima non c'erano, dato che le lampadine consumavano di meno. Ecco, queste conseguenze inaspettate non sono da trascurare. Ad esempio, nel caso della doccia intelligente, c'è una grande conseguenza inaspettata, che però forse potremmo immaginare, che è invento una soffione intelligente per farmi consumare meno acqua, che quindi utilizza sofisticati algoritmi di machine learning per fare ciò, ma qual è una conseguenza di questo? Questo è che per fare l'addestramento di questi algoritmi si utilizza tantissima energia. Quindi per diminuire il consumo d'acqua in maniera, in questo modo, io poi vado a aumentare tantissimo l'energia che mi serve per fare l'addestramento di questi algoritmi. E questo è un bel problema, perché sapete, spero, che alcuni algoritmi in particolare di intelligenza artificiale, di machine learning, consumano tanta e tanta energia. E forse qualcuno di voi potrebbe dirmi, beh, ma in fondo che necessità abbiamo di avere una soluzione tecnologica così sofisticata come quella della doccia intelligente, quando potremmo semplicemente decidere di consumare un po' meno acqua e di fare delle docce magari più brevi o di spegnere l'acqua quando ci stiamo insaponando. Fatemi però andare diciamo in questa direzione, perché in questa direzione io penso ci siano delle cose, purtroppo non riesco a vedere bene le mie slide, mi sembra che siano completamente saltate tutte, però in questa direzione ci sono delle cose interessanti da valutare. Abbiamo detto, stiamo parlando di tecnologie sperimentali in alcuni casi, ma c'è anche un altro elemento che è tipico delle tecnologie digitali e che è stato molto ben messo in luce. Grazie, grazie, bene, sono contenta che voi le vediate bene, che è stato molto ben messo in luce in un vecchio paper, guardate qua, lo vedete, pubblicato nel 1985, in cui questo filosofo, uno dei fondatori della cosiddetta computer ethics, ragionava su quali sono i fattori rivoluzionari dei computer. E in questo lavoro diceva, beh, potremmo dire che i computer sono rivoluzionari perché hanno cambiato il nostro modo di lavorare. Attenzione, stiamo parlando del 1985, potremmo dire che i computer sono rivoluzionari perché ci consentono di fare dei calcoli complessi. Ma in realtà dopo tutto questo l'autore diceva, ma i computer sono rivoluzionari per via di questo fattore di invisibilità. Che cos'è questo fattore di invisibilità? Moore diceva, beh, quello che è veramente rivoluzionario dei computer è che noi possiamo vedere gli input, possiamo vedere gli output dei computer, ma le operazioni interne sono invisibili. Quindi il fattore di invisibilità ha a che fare con questo e spesso genera dei vuoti, lui li chiamava vuoti politici, cioè dei vuoti per cui non si capisce bene cosa dobbiamo fare. Vi faccio tre esempi velocissimi che sono, erano già discussi in quel lavoro, ma che credo oggi siano quanto mai attuali. Primo esempio di invisibilità dell'abuso che genera dei vuoti, diciamo, sui comportamenti. Ad esempio, Moore diceva, possiamo rubare, e questa è un'invisibilità dell'abuso, non semplicemente andando in banca come ai vecchi tempi e puntando la pistola al cassiere, chiedendo dei soldi e portandoci di via con le valigie, ma possiamo rubare sfruttando appunto l'invisibilità dei processi dei computer, magari semplicemente quando un programmatore è bravo, rubando, come dire, l'eccesso, lo zero virgola dai conti correnti e trasportando queste somme nel mio conto corrente personale. E questo è un modo diverso di rubare, è sempre rubare, però è un modo diverso, perché uno si può dire, può dire, beh, è meno pericoloso, mette meno a rischio, diciamo, la vita delle persone, non entro nella banca con la pistola. Sì, ma qualcun altro potrebbe dire, beh, però è anche vero che in questo modo posso rubare più denaro, perché non ho i limiti, diciamo, fisici delle borse. E potremmo stare qua a discutere, però spero che vi sia chiaro che questa, in questo caso, l'invisibilità determina un tipo di abuso che è diverso da quello che potremmo fare senza usare i computer. Secondo esempio, l'invisibilità dei valori di programmazione. Qui Moore diceva, consideriamo un esempio che era molto famoso a quei tempi, di un programma per fare la prenotazione dei voli aerei, che ci mette sempre per primo i risultati delle compagnie, che ci propone, diciamo, le compagnie, non perché sono le migliori compagnie, ma perché ha un bias nei confronti, in alcuni casi, diciamo, è una truffa, di alcune compagnie che non sono le migliori, ma che vengono presentate come le migliori. E qui credo che veramente gli esempi che vediamo oggi sono molteplici, cioè, vediamo moltissimi di questi invisibilità nei valori di programmazione, che in alcuni casi sono intenzionali, in alcuni casi non sono intenzionali, ma la ragione è che i programmi li scrivono le persone, le persone hanno dei valori e spesso, volenti o nolenti, questi valori, diciamo, entrano nel modo in cui i programmi sono scritti. E poi, infine, Moore parlava già nel 1985 dell'invisibilità dei calcoli complessi e diceva, abbiamo inventato i computer per fare dei calcoli complessi e ci fidiamo di questi computer, in alcuni casi, appunto, deleghiamo a loro, non siamo neanche in grado di farli noi questi calcoli. E direi che questo, ancora molto attuale, pensate a paradigmi come il deep learning, in cui non solo non siamo in grado di fare questi calcoli, chiamiamoli così, ma non siamo in grado, in alcuni casi, neppure di capirli. Perché vi sto dicendo tutto questo? Beh, perché ci sono degli aspetti importanti a cui vorrei ritornare andando verso la conclusione, quindi fra poco concludo, così abbiamo poi tempo per eventuali domande e interventi. Vi sembrerà che arrivi alla conclusione in maniera molto lontana. Perché? Perché stavamo parlando di tecnologie, di computer, di soluzioni digitali e adesso invece si vi sto passo a qualcosa che nulla ha di digitale. Cioè questi cavalcavia, che vedete già dal titolo, sono stati rinominati cavalcavia razzisti. Perché? Questi cavalcavia sono stati costruiti nello stato di New York, nella prima metà del Novecento, da un famoso architetto che si chiamava Robert Moses. E se notate, questi cavalcavia sono molto bassi. Vedete che hanno una forma molto bassa, quindi si vede che le macchine possono passare sotto, ma ad esempio se volessero passare degli autobus o dei tir, non potrebbero passare sotto. Cosa c'entra con quello che sto dicendo? Beh, c'entra perché voi potrete dire, beh, questo è proprio un esempio di un cattivo progetto. Invece questo è un esempio famosissimo di un progetto non cattivo, ma di un progetto razzista. Cioè Moses decise che questi cavalcavia dovevano essere bassi per non fare passare il trasporto pubblico. Quale era la ragione? Beh, voleva che, diciamo, il trasporto pubblico, voleva meglio, diciamola così, che alcuni dei parchi che lui stesso aveva progettato nello stato di New York fossero accessibili solo a chi possedeva una macchina. E nella prima metà del Novecento chi possedeva una macchina, come trovate ben scritto in questo lavoro che ha ricostruito questa storia, erano sostanzialmente le persone della classe media, bianchi, che potevano permettersi appunto di acquistare una macchina. Mentre invece tutte quelle che Moses chiamava le classi, diciamo così, meno, meno, meno comfortable, che erano sostanzialmente le persone povere e in maggior misura, diciamo, gli afroamericani, quelli che non potevano permettersi una macchina a quel tempo, sarebbero stati, diciamo, non incoraggiati a raggiungere questi parchi pubblici. Perché? Perché il trasporto pubblico non era possibile. Bene, voi direte, beh, ma allora c'è solo una questione di progettare questi artefatti, queste soluzioni, però in maniera buona, in maniera, diciamo, non razzista. Beh, non penso che sia solo questo. Ovviamente questo è un esempio negativo e famoso, giustamente, perché ci mostra che appunto spesso le questioni morali hanno a che fare non solo come noi ci, sono relative non solo a come noi ci comportiamo, ma a come noi progettiamo determinate soluzioni. Però non basta avere buone intenzioni. Perché, come ho cercato di mostrare con i due casi, i due esperimenti mentali che prima vi ho fatto vedere, c'è una differenza sostanziale tra le leggi e le tecnologie nel limitare l'autonomia umana. E una differenza è che dalle leggi, alle leggi possiamo sempre pensare di non ubbidire, è più difficile pensare di non ubbidire a certe tecnologie. Voi potrete dirmi, beh, il soffione della doccia basta che lo smonti e lo metta via, il caso della macchina che misura il livello d'alcol è un po' difficile, ma potrei semplicemente non comprarla. Ma io credo che oggi siamo di fronte a un grandissimo problema. E questa è l'ultima cosa che vi dico. E il problema è che non basta progettare queste tecnologie avendo in mente dei valori positivi, risparmiare acqua, evitare che le persone guidino ubriache, perché non solo ci sono le conseguenze, diciamo, in attese, come abbiamo visto, ma perché è il momento di pensare a chi decide questi valori e come questi valori vengono implementati nelle tecnologie. Non a caso ho fatto due esempi, sono partita da due esperimenti mentali sui quali potremmo dire, diciamo, siamo tutti d'accordo che incorporano valori positivi, non guidare ubriachi, risparmiare l'acqua. Ma c'è una differenza sostanziale tra le leggi e le tecnologie. Le leggi sono frutto di un processo democratico, almeno in certi paesi, sicuramente in Europa. Perché? Perché sono frutto, come dire, delle decisioni di legislatori democraticamente eletti che magari faranno, prenderanno delle decisioni per le quali non siamo contenti, ma che almeno in linea di principio, la prossima volta potremmo decidere di non rieleggere. Le tecnologie non sono frutto di un processo democratico, anche quando sono pensate e progettate per il bene, e in più incorporano quello che prima ho presentato, il fattore di invisibilità. Non capiamo come questi valori, quali sono questi valori, come questi valori sono implementati. In molti casi, anche tecnologie, diciamo, particolarmente sofisticate, sono molto opache, non trasparenti. E quindi ci è spesso difficile capire chi ha deciso i valori e quali sono i valori implementati. Il mio invito, quindi, è in un certo senso di ampliare, di allargare lo sguardo quando pensiamo appunto a idee di digitale per risolvere magari problemi grandi, pressanti. Ma allargare lo sguardo significa anche rendersi conto che veramente questa è una sfida aperta, è una domanda che dobbiamo farci. Davvero credo a tanti livelli. Io qua non vedo più niente, ma sono fiduciosa, e me lo ricordo per fortuna a memoria, ma sono fiduciosa che voi vediate. E io credo i tanti livelli sono almeno tre. Uno, il livello di chi progetta queste tecnologie. Perché è importante? Perché queste tecnologie veramente devono essere progettate avendo in mente che possono esserci conseguenze inattese e progettate in maniera tale da includere il più possibile in maniera aperta chi userà queste tecnologie, rendendo bene evidente che questi sono processi complessi e è importante che siano partecipativi. Due, includendo in qualche modo in questo discorso anche i regolatori, anche i policy maker, che forse non dovrebbero più, come dire, limitarsi a regolare a posteriori quando le tecnologie sono già decise, ma che dovrebbero invece pensare a coprogettare queste tecnologie. E poi il terzo elemento, scusate, è andato all'altra slide, il terzo... Il terzo gruppo di persone che invece dovrebbe, secondo me, partecipare maggiormente siamo tutti noi, i cittadini, cittadini che dobbiamo chiedere ad alta voce quali sono questi valori e in che modo sono realizzati all'interno di queste tecnologie. Perché dobbiamo farlo? Perché è un gioco, se vogliamo, anche il futuro delle nostre democrazie, il modo in cui partecipiamo alle democrazie, in un momento in cui sapete bene che poi molte delle soluzioni tecnologiche che usiamo e che danno forma alla nostra azione quotidiana sono progettate ormai da poche aziende che spesso non hanno nessun interesse a rendere chiaro, chiari quali sono i valori e come sono inseriti. Vi ringrazio, abbiamo ancora, direi, un po' di tempo per eventuali domande e spero che, diciamo, ci siano queste domande anche usando la chat se non volete usare il microfono. Grazie, grazie Viola per questo bellissimo seminario molto stimolante perché, come dice Francesca, si fa pensare perché effettivamente la tecnologia digitale impatta sulla società in modi imprevedibili. Io nel mio libro ho coniato così un po' per scherzo questa legge sull'impatto sociale della tecnologia digitale che dice l'impatto sociale della tecnologia digitale è imprevedibile anche tenendo conto della legge sull'impatto sociale della tecnologia digitale quindi una legge autoreferenziale insomma che non finisce mai come quegli specchi che si riflettano l'altro all'infinito ma effettivamente è così diciamo adesso le ragazze che ci stanno ascoltando probabilmente sono diciamo nate in un'epoca in cui come dire i social già c'erano le tecnologie digitali già c'erano ma se provate appunto a parlare con i vostri genitori i vostri insegnatori e a immaginare com'era il mondo prima di queste tecnologie nessuno oggettivamente l'aveva era stato in grado di descriverlo qualcuno aveva visto così qualche qualche sprazzo ma è difficile capire come 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 insomma io sono un appassionato lettore di fantascienza e devo dire che di tutta la fantascienza che ho letto pochissime sono quelle che diciamo quelle quelle visioni che hanno colto qualche cosa diciamo di quello che adesso ci sta insomma quindi è difficile capire per questo l'invito di Viola a riflettere a partecipare anche senza voler essere tecnici è estremamente importante diciamo ecco qui diciamo c'è una domanda dice come ragazzi in che modo possiamo contribuire ad esempio alla progettazione beh intanto secondo me come ragazza la progettazione si contribuisce di nuovo inserendo altre prospettive allora prima parlavo del fattore di invisibilità e dell'invisibilità dei valori di programmazione come anche Enrico menzionava prima dobbiamo uscire da quello stereotipo di quella ristretta così cerchia di persone che fino a un certo punto è stata identificata con l'informatica e dare spazio a diversi valori di programmazione inteso in senso lato no e è veramente perché si sta insistendo tantissimo che appunto le ragazze diciamo ci siano più ragazze non vi dico io insegno al Politecnico di Milano questo è un tema caldissimo perché io insegno poi a Ingegneria Informatica sono poche sono pochissime e quindi abbiamo una visione unilaterale io parlo in senso come dire semplice di programmi ma sappiamo bene che insomma non è semplicemente scrivere del codice ma è progettare delle soluzioni digitali dei sistemi se abbiamo una sola visione o poche visioni o pochi valori e poi dopo come dire abbiamo delle soluzioni pensate solo per un ristretto numero di persone e non riusciamo veramente ad ampliare la visione quindi questa idea della diversità intesa in senso più ampio del termine è veramente importante quindi secondo me le ragazze hanno grande spazio io penso che sia veramente il vostro momento proprio nell'introdurre questa diversità anche di visione sì volevo commentare diciamo aggiungere una cosa che spesso come dire la visione è un po' del progettista tradizionale quindi tipicamente chiamiamolo così maschio è quello di concentrarsi sull'aspetto della funzione di ciò che il sistema informatico deve fare mentre invece la prospettiva femminile spesso riflette tende a riflettere di più adesso diciamo questo non sono uno sociologo uno psicologo non so bene perché però tende a riflettere di più sul chi è il destinatario diciamo di questo sistema che cosa come il destinatario di questo sistema viene viene influenzato quindi questa visione sul sul diciamo chi può essere quali vite possono essere quali esistenze possono essere influenzate da ciò che fa questo sistema perché questo alle volte se uno si concentra solo sulla funzionalità del sistema che magari è come dire piena di buone intenzioni come diceva Piole in apertura si dimentica che ci sono tantissimi punti di vista e diciamo l'utente che in qualche modo si trova a subire questo sistema rischia di essere un po' travolta insomma questo poi capita anche a a tutti quando sono dal lato dell'utenza si trovano su un sito web che è fatto male che non si capisce che non reagisce e noi siamo lì in come dire in balia di un meccanismo che rischia di di stritolarci quindi quest'ottica della diciamo dell'utilizzo dell'utente del chi è che subisce tra virgolette questo questo comportamento è un'ottica estremamente estremamente importante da da portare e questa appunto attendo penso che sia diciamo un'ottica un'ottica più femminile che maschile poi ovviamente le ragazze sono benvenute anche sulla 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 progettazione tecnica e questo diciamo io penso che siano assolutamente in grado di farlo come Viola potrà testimoniare diciamo le ragazze che stanno al Politecnico non sono da meno diciamo dei ragazzi assolutamente ovviamente dovendo fare comunque più fatica questo è un dato di fatto non nascondiamocelo sono spesso molto brave e le ho viste cambiare molto anche negli ultimi anni in positivo assolutamente in positivo quindi davvero secondo me c'è spazio insomma per nel frattempo che diciamo mentre magari a qualche a qualche altra o altro insomma se anche c'è qualche studente che così partecipa per conto di un'amica di una sorella e così via magari gli vengono le mette altre domande io ricordo che diciamo questi questi quattro webinar di cui oggi c'è il primo e a distanza a cadenza settimanale ce ne saranno altri altri tre sempre ogni giovedì alle 17 e che potranno anche essere visti in modalità registrata per chi diciamo lo perde o lo vuole rivedere per ritornare su certi temi che come dire a ripensarci non sono più così chiari o se li vuole approfondire questa serie di webinar fa parte di questa iniziativa diciamo che vuole poi premiare chi di voi si cimenterà con il video la mia prospettiva la mia idea digitale al femminile perché appunto poi alla fine di questi webinar entro la scadenza di questa diciamo iniziativa che è il 30 aprile chi vuole ovviamente tutto liberamente può inviare un video secondo le istruzioni che stanno sulla sulla pagina di questa iniziativa e chiedo a Francesco di ricordarla qui sulla chat così nel caso vi fosse sfuggita ve la ritrovate quindi attraverso quella pagina voi potete inviare un video un video in prima persona in realtà adesso che ci pensano un breve video in cui presenta la sua idea di futuro nel mondo digitale in realtà quindi potreste anche non essere in prima persona potrebbe anche essere un video che voi realizzate in cui non ci siete voi ma c'è quello che voi pensate della vostra idea di futuro nel mondo digitale eccoci deve essere la vostra prospettiva non è detto che ci siate voi perché magari non vi piacete dal punto di vista dal punto di vista di resa di resa visiva però ci deve essere la vostra idea di futuro femminile nel mondo digitale perché l'idea appunto è quella di stimolarvi a dare questo contributo e stimolare anche altre ragazze a dare questo contributo questo diciamo è importantissimo che inizi dalle scuole perché poi insomma se non si comincia a esporre fin noi diciamo dalla scuola elementare delle ragazze a questi a questi temi uno magari dice vabbè ma quella è roba per ma schiacci diciamo non la faccio invece nel digitale c'è c'è tutto il premio per le i quattro video migliori sarà la partecipazione a un campus di introduzione all'informatica che è solo per ragazze quindi diciamo vi troverete con ragazze come voi della scuola secondaria superiore questo campus ha una prima settimana che viene fatta online e una seconda settimana che viene fatta in presenza presso l'università dell'Aquila con diciamo un campus curato da colleghi e colleghe molto molto valide una di queste terrà il webinar la settimana prossima e quindi magari questa sarà anche l'occasione a voi per voi per chiedere qualche cosa di più e insomma è un'iniziativa molto bella perché poi condividere questo interesse questa passione con chi è come voi e magari bisogno di un po' di incoraggiamento è importante insomma so bene che l'adolescenza non è un periodo facile e quindi diciamo mettersi in contatto con chi condivide certi punti di vista può essere estremamente utile vedo questo bellissimo commento di Asia che racconta così la l'esperienza l'esperienza della sua compagna e sì del resto è vero cioè sicuramente gli stereotipi non aiutano sicuramente anche il modo in cui spesso gli insegnanti determinano magari anche inconsapevolmente chi è più bravo cosa può fare cosa non può fare eccetera ma io vi dico siate fiduciose su questo perché l'informatica almeno è una disciplina recente e avete un sacco di buoni modelli anche femminili da seguire io che vengo dalla filosofia e che è una disciplina con 2500 anni di storia dove praticamente i modelli femminili se ci sono stati sono stati completamente cancellati dalla storia ho questo fardello di 2500 anni così di storia che spesso schiaccia quindi vorrei così dare anche questa prospettiva in cui forse è una disciplina più giovane in cui sì è vero magari fino a poco tempo fa era un po' pannaggio maschile eccetera ma insomma è una storia recente breve fate veramente meno fatica farete sicuramente meno fatica a scardinarla perché effettivamente avere dei modelli a cui ispirarsi è molto molto importante io che appunto non li ho avuti da filosofa o ne ho avuti veramente pochi mi rendo conto che invece sono tanti importanti specialmente quando si è giovani specialmente quando così si pensa ma cosa voglio fare che strade voglio prendere però siate fiduciose perché appunto è recente quindi non avete da combattere contro una tradizione plurimillenaria di così disciplina a cui così da cui le donne sono state proprio estromesse tradizionalmente sì sì no questo questo è un punto importante diciamo una disciplina giovane c'è spazio è una disciplina che avrà sempre più più spazio quindi per le ragazze che vogliono che vogliono impegnarsi in una cosa che ormai è sempre più sociale sempre meno tecnologica nel senso che insomma poi l'abbiamo già detto l'impatto diciamo di queste tecnologie è dappertutto e quindi è importante un punto di vista diciamo che faccia attenzione a questi a questi aspetti sociali noi insomma sapete col progetto programma del futuro cerchiamo di avvicinare le bambine dalla scuola elementare all'informatica perché la conoscenza è un altro di quegli elementi che può contribuire ad avvicinare o allontanare se io non conosco qualche cosa non lo considero se lo conosco magari mi vengo stimolata e vengo vengo interessata l'abbiamo diciamo proprio visto nelle ricerche nel progetto programma del futuro le bambine nelle scuole elementari sono al pario addirittura superiori agli insegnanti ma evidentemente c'è poi un'influenza degli stereotipi che nelle scuole medie e poi nelle superiori tende ad allontanare per questo è importante appunto cominciare da piccoli da piccoli a essere interessati a questa a questa disciplina che è sempre più importante per il futuro della nostra società insomma ricordava Viola che la tecnologia non è democratica quello è un punto per voi che tra un po' cominciate a votare è un punto fondamentale diciamo quali sono i valori che vogliamo per la nostra società lo possiamo decidere soltanto nella democrazia attraverso i governanti non certo con la tecnologia che risponde agli azionisti che devono fare fare il business questo diciamo è fondamentale da comprendere per cui insomma voi ragazzi anche voi ragazzi che vi state avvicinando insomma state maturando la vostra posizione il vostro punto di vista è importante che comprendiate che la decisione aspetta a tutti noi su come la tecnologia digitale deve influenzare la società io a questo punto vedo ancora un commento di Asia che sta elaborando grazie Asia che intervieni e mandi questi commenti per chi come dire dall'altro lato vedere questa attività è vitale certo beh ma immagino che Asia in un ITIS diciamo che è tipicamente maschile come la tua vita al Politecnico quindi vabbè diciamo Francesco il nostro diciamo ingegnere che cura tutta la parte tecnica ha messo il link del concorso quindi lì ci sono tutte le istruzioni fate circolare queste informazioni tra le vostre amiche i vostri amici perché diciamo più più si allarga la partecipazione più questo diventa diciamo più gente partecipa più diciamo l'iniziativa ha successo e vi ridò a questo punto appuntamento per giovedì prossimo che è il 28 marzo staremo iniziando le vacanze di Pasqua ma insomma ancora un'oretta dedicatela a questo tema perché non è così un palloso compito di scuola ma è una riflessione sul vostro futuro di cittadini e di cittadini ci vediamo quindi giovedì prossimo 28 marzo alle 17 asia ok bene oh addirittura così giovane a 14 anni bene bene un futuro un futuro brillante e combattivo perché se a 14 anni è così via ottimo grazie mille allora grazie a tutte e a tutti e e a presto grazie a te Viola diciamo di questo bellissimo grazie a voi e a presto a presto grazie a tutti arrivederci arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti